Buongiorno, sono il dottor Allegrini, sono facente parte del comitato scientifico della scuola di alta formazione in epigenetica, nutrizione applicata, medicina funzionale e biofisica. Il mio è un invito a iscriversi perché questa scuola quest'anno viene ulteriormente potenziata da una serie di ulteriori docenti che arriccheranno il mondo della epigenetica attraverso le loro ormai decennali conoscenze e permetteranno a tutti coloro che fanno parte delle varie professioni sanitarie, dal medico all'osteopata, al nutrizionista, allo psicologo, al biologo, al farmacista, al naturopata di poter approfondire tematiche inerenti alla salute vera, quella che stiamo perseguendo con questo progetto, una salute che parte da dentro, che vede l'essere umano visto nella sua multidimensionalità. Quindi il mio invito è quello di iscrivervi perché c'è molta carne al fuoco, c'è soprattutto la possibilità quest'anno di ampliare attraverso queste conoscenze che saranno distribuite in sette weekend da grandi professionisti, quelle che sono le conoscenze anche applicate al grande strumento dispositivo che abbiamo a disposizione, l'S Drive, che chiaramente può permettere proprio di creare un linking tra le varie professioni e i vari professionisti per avere chiaramente un linguaggio comune per poter perseguire tutti insieme questo splendido sogno che è quello di migliorare la quantità di vita nella qualità di vita.